Il paese delle vacanze non sta lontano per niente. Se guardate sul calendario lo trovate facilmente. Occupa tra giugno e settembre la stagione più bella. Ci si arriva dopo gli esami. Passaporto, la pagella. Ogni giorno qui è domenica però si lavora assai. Tra giochi, tuffi e passeggiate non si riposa mai. Grazie per la visione! Grazie per la visione!